Il latte dolce prepara l'esordio a casalingo al Vannisan. Ai nostri microfoni le impressioni e le sensazioni anche in riferimento all'avversario da incontrare del mister Massimiliano Paba. Per noi è un campo nuovo insomma, però dobbiamo fare in modo che diventi veramente casa nostra perché in questo campo dovremmo disputare tutto il campionato e quindi insomma prima ci abitueremo al manto erboso, alle dimensioni e meglio è insomma. Già in settimana ho visto il gruppo molto motivato, voglioso di rifarsi insomma quindi sono fiducioso per quanto insomma la partita nasconda delle insidie perché comunque l'Annosei è un'ottima squadra anche loro arrivano da una scufitta coccente in casa contro il Santiodoro, immeritata perché giocano un gran calcio hanno avuto grandi occasioni e di conseguenza c'è da tenere presente anche la loro voglia di rivalsa. Non sarà facile per noi però noi stiamo bene, siamo motivati e vogliosi di conquistare questa prima vittoria.